Giunti alla tredicesima settimana di cantiere, sono terminate le operazioni di pulitura del fregio marmoreo, ora libero da agenti biologici e da depositi. Nelle prossime settimane, i restauratori saranno impegnati nelle rifiniture sulle macchie di calcare e nei lavori di stuccatura delle fessure tra i blocchi di marmo botticino. Gli operatori procederanno di pari passo sul lato est e sul lato ovest del fregio. Grazie. 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 Grazie.